buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi lunedì 30 settembre 2024 procediamo come sempre attraverso l'almaracco del giorno per vedere il santo di oggi il santo di oggi è un dottore della chiesa ovvero una persona che è stata laureata per la sua cultura per il suo sapere per i suoi studi e dobbiamo dire che san girolamo di cui si festeggia oggi la festa ebbene è un grande è un grande uomo di cultura un grande santo anche fu un poliglotta conosceva il greco il latino l'ebraico il siriaco il caldaico ebbene a lui il papa chiese di tradurre il latino il vecchio testamento e di rivedere quello nuovo ebbene girolamo per completare questa opera monumentale sapete come ponderoso il libro della bibbia si stabilì a betlemme in una grotta visse in una grotta vicino a quella in cui era nato gesù e consacrò la sua vita alla traduzione delle sacre scritture fu proclamato dunque dottore della chiesa e proprio della traduzione di san girolamo si avvale ancora oggi la chiesa pensate girolamo visse nel quarto secolo ed era dalmata ciò detto passiamo alle previsioni del tempo cielo sereno stelle in cielo questa notte sarà il sole invece a dominare tutta la giornata tempo stabile soleggiato per l'intera giornata su tutto il territorio regionale minime intorno ai 10 e le massime intorno ai 21 gradi i venti sono deboli sulle coste da est e nord est e sono deboli con attenzione un pochino più forte nell'interno da ovest nord ovest il sole è sorto alle 7.02 tramonterà alle 18.52 abbiamo così introdotto la nostra rassegna stampa ora apriamo i giornali a partire dal resto del carlino sulla pagina di apertura sulla pagina regionale e vediamo una sintesi delle notizie di tutte le cinque province marchigiane cominciamo con quella di pesaro e vediamo l'addio che è stato dato a glauco mauri uno dei pilastri del teatro una voce inconfondibile una recitazione che ha calcato per tanti dei per decine tanti tanti anni i palcoscenici di tutti i teatri d'italia e l'addio è stato dato proprio in questi ultimi giorni su al teatro rossini sua città natale addio a glauco mauri portò la città nei teatri del mondo attore e regista avrebbe compiuto 94 anni proprio nella giornata di domani vediamo anche purtroppo ci sono tre decessi che vengono riassunti per quanto riguarda la provincia di pesaro infatti oltre a quello di glauco marri vediamo che una ragazza molto giovane ha perso la vita ieri a cesena in un incidente stradale era in sella ad una motocicletta e poi a monte calvo in foglia scompare una sposa di 28 anni era malata e il sindaco ha proclamato il lutto cittadino vediamo anche le sintesi di ancona cede una tubatura tanti disagi al piano a lanciare l'allarme ai residenti era come un torrente una valanga d'acqua che ha così invaso tutta la strada a jesi è crollato un albero su un'auto il comune ora deve risarcire il proprietario e poi alla pinacoteca c'è un evento culturale di grande importanza importanza regionale ma io oserei dire anche nazionale una mostra di Alfred Dürer uno dei più grandi artisti del rinascimento in mostra 150 capolavori e sono in modo particolare delle stampe Dürer fece delle stampe con il quale divulgò la sua arte in tutta Europa ad Ascoli a Fermo arrivano 3 milioni per le scuole il giornale fa la mappa degli interventi e poi in farmacia a Monte Urano in crisi di astinenza un uomo minaccia la commessa voleva appunto avere dei soldi per così comprare la droga un anziano maltrattato in famiglia figlio a processo nei guai anche la compagna mentre a San Benedetto a Martinsicuro l'ultimo saluto al pescatore morto in mare aveva 60 anni vediamo anche la provincia di Macerata c'è l'allarme sanità in emergenza mancano i medici posti vuoti sono 22 è un po' una carenza questa che si riscontra in tutta la regione a Tolentino inizia la demolizione del vecchio ospedale il nuovo sarà pronto tra due anni a Civitanova invece sui busse degli studenti arrivano i vigilanti contro droga e contro bullismo e ora di finirla contro gli schiamazzi e contro i danneggiamenti sui mezzi di trasporto pubblico ed ora apriamo il giornale vediamo un po' le notizie che vengono espresse in maniera più completa rispetto alla sintesi della prima pagina e vediamo che su questa pagina abbiamo l'esito delle elezioni in provincia che si sono un po' tenute in tutta la regione vediamo subito in quella di Pesaro ebbene in quella di Pesaro si è evidenziato un esito che forse nessuno aspettava ma che è il primo che si evidenzia in tutta la storia della provincia difficile fare le previsioni nonostante che i voti ormai siano stati contati che governerà la provincia di Pesaro Urbino il centrodestra infatti ottiene la sua prima vittoria storica ma in consiglio si può finire 6 a 6 ebbene vediamo un attimo che cosa è accaduto il centrodestra per la prima volta ha conquistato la maggioranza dei voti nella provincia di Pesaro e Urbino ma tutto lascia pensare che questa maggioranza numerica non si possa trasformare in una maggioranza sostanziale in provincia lo sapremo con certezza solo oggi ma vediamo un po' che cosa è accaduto è accaduto che ieri l'esito si è concluso intorno alle 23 con l'elezione dei 12 consiglieri alla lista di centrosinistra la casa dei comuni provinciali 2024 sono andati 42.050 voti ponderati alla lista invece di centrodestra la nuova provincia Pesaro Urbino ne sono andati 48.946 allora 42 al centrosinistra 48.000 ovviamente al centrodestra quindi oltre 6.000 voti in più al centrodestra dovrebbe governare il centrodestra ma insomma al momento la cosa non è proprio così perché il voto viene ponderato in base al peso dei comuni un comune più grande pesa di più di un comune più piccolo e l'entrata in questa bagarre del comune di Fano governato dal centrodestra ha un peso particolare insomma che in passato non aveva perché proprio questo è il meccanismo elettorale ieri hanno votato 540 amministratori sui 656 a 20 diritto e l'ufficialità di quello che accadrà lo dicevamo arriverà oggi per la ripartizione dei seggi e la proclamazione degli eletti ma si va verso un probabile pareggio tra due forze politiche con il meccanismo appunto della ponderazione sei consiglieri a testa sei al centrosinistra e sei al centrodestra ma c'è anche un evento che potrebbe incidere su questa situazione di stallo ebbene il voto di Giuseppe Paolini il voto di Giuseppe Paolini che l'attuale era insomma nella passata tornata era il presidente può tenere l'ago della bilancia ancora verso il centrosinistra anche se politicamente il centrodestra tenterà comunque di far pesare la vittoria in termini di voti insomma il voto di Paolini potrebbe insomma pesare più per il centrosinistra però il numero dei voti ottenuti dal centrodestra può insomma ribaltare la situazione è un problema che dovremo vedere come andrà a finire e ovviamente lo leggeremo domani sui giornali vediamo anche Ancona tiene il campo larghissimo del centrosinistra e anche qui sarà a pareggio mentre a Macerata Fratelli d'Italia punta alla vicepresidenza dell'ente affermo Ascoli sindaci e consiglieri tutti presenti affermo affluenza sotto la media rispetto al resto delle parti vediamo ora invece la provincia di Pesaro per quanto riguarda la cronaca vediamo purtroppo i lutti muore una giovane sposa di 28 anni era affetta da fibrosi cistica lo si sapeva fin dalla nascita è stata una battaglia continua quella compiuta da Ioanna Rossi di Monte Calvo in Foglia si era sposata pensate appena il 7 gennaio scorso lutto cittadino per domani per onorare il suo ricordo la ragazza è mancata all'ospedale di Urbino dove era ricoverata e quindi in segno di lutto due squadre non sono scese in campo sono la squadra Vadese e Cagallo del campionato di seconda categoria era una gara questa che si sarebbe dovuta disputare a Sant'Angelo in Vado ma non c'è stata poche ore prima dell'inizio del fischio d'inizio insomma la ragazza è mancata è morto Glauco Mauri l'abbiamo anticipato è stato per 71 anni l'ambasciatore di Pesaro nei teatri del mondo ebbene il resto del Calino pubblica una intervista rilasciata da Carlo Pagnini Carlo Pagnini il grande attore dialettale di Pesaro molto amico di Glauco Mauri lo conosceva è stato con lui anche collaboratore in alcuni lavori e c'è un bel ritratto che i due sono tutti i due erano anziani insomma uno 96 uno 94 anni pensate ma sono ancora erano almeno per quanto riguarda Glauco Mauri erano proprio dei testimonial del teatro di un amore di una passione per il teatro che li ha caratterizzati per una lunga vita vediamo oh vediamo qui l'esito del premio frontino uno dei premi più prestigiosi a livello culturale che si tiene nella nostra provincia autori e poeti in passarella personaggio dell'anno è stato nominato l'imprenditore Brunello Cuccinelli e poi riconoscimenti a Montinaro all'istituto di Macerata Feltrea Alberto Piazzanti Lepretti Miserocchi e Cordelli c'è un lungo elenco dei premiati in questo articolo che proviene da Frontino per la cultura del Monte Feltro è stato premiato lo storico Gianluca Montinaro che ha pubblicato un volume su Francesco Maria II della Rovere per la sperimentazione scolastica l'istituto comprensivo di Macerata Feltrea con il progetto Poeti fuori classe e poi abbiamo diversi settori per l'ambiente Fabrizio Miserocchi per le umane diversità Umberto Piazzanti e Andrea Lepretti per la letteratura Franco Cordelli il personaggio dell'anno come abbiamo detto è stato nominato l'imprenditore Brunello Cuccinelli il quale non è intervenuto a ritirare il premio ma è stato presente con un lungo video in cui è raccontato il suo amore per il sapere per le relazioni la cultura la bellezza e Frontino lo accoglierà nei prossimi giorni nel corso di un evento che sarà tutto a lui dedicato ed ora ci sono anche altre notizie ovviamente che riguardano le altre province le abbiamo sintetizzate prima e quindi ora possiamo passare al Corriere Adriatico il Corriere Adriatico mette la prima pagina evidenzia il lutto l'addio a Glauco Mauri re del teatro l'attore e regista pesarese è morto a 94 anni e poi invece l'apertura è dedicata alla vittima di un incidente quello che si è verificato in un tunnel nei pressi di Cesena si tratta di Martina Di Giulio pensate morta a 21 anni la ragazza rimuoto insieme al fidanzato di 27 che è rimasto praticamente inleso poi abbiamo due richiami per quanto riguarda Fano oggi in consiglio arriva il piano dei lavori pubblici e poi si parla della mensa dei poveri la mensa di San Paterniano mentre per quanto riguarda diciamo così una notizia che riguarda un po' tutta la regione si parla di regole dei bagnini sono una follia stagione con il freno vediamo un attimo questo articolo pubblicato nelle prime pagine nel Corriere Adriatico stagione balneare mai decollata una follia le regole su Baywatch è in bilancio di chiaroscuro dei titolari degli scialè nell'ultimo giorno in spiaggia ormai i bagnini hanno così desertificato possiamo dire le spiagge hanno tolto gli ombrelloni hanno tolto tutte le attrezzature ormai con il fresco non diciamo il freddo perché ancora il freddo non è arrivato la stagione balneare può dichiararsi finita è un bilancio in chiaroscuro dei titolari dicevo perché c'è un problema da una parte si dice di destagionalizzare la stagione cioè renderla più lunga oltre mesi di agosto tra l'altro invece si reprime questa situazione limitando appunto la possibilità agli concessionari di spiaggia di praticare la loro attività interviene Mauro Mandolini che è il rappresentante dei bagnini fanesi il finale rovinati da meteo e ordinanze buono solo agosto purtroppo settembre è stato un mese alterno è stato ancora un mese caldo ma è stato anche un mese perturbato e la pioggia ovviamente ha così rovinato il prolungarsi della stagione balneare parla anche Cristiano Cursi di Senigallia addio alle presenze durante la settimana pieno solo nei weekend solo il sabato e la domenica poi abbiamo anche altri commenti vedo Marco Scarpetti di Civitanova un'estate sottotono ma sono aumentati per fortuna i turisti stranieri e questo un po' in tutta la provincia anche nella provincia di Pesaro Urbino Romano Montagnoli di Porto San Giorgio siamo riusciti a salvare giusto qualche domenica mentre Sandro Assenti di San Benedetto dice cambiare il target della clientela dobbiamo fare largo ai giovani e giovani poi che si innamorano nel nostro territorio e continuano a venire anche quando poi crescono e mettono su famiglia allora vediamo l'articolo che riguarda Fano l'apertura lo vediamo un attimo eccola qua dedicata a quello che si discuterà oggi in consiglio comunale consiglio comunale convocato alle ore 18 si può vedere anche in streaming potrà essere seguito come sempre da tutti i cittadini in diretta streaming sul sito htttps due punti due slash fano punto sinedrio punto eu adesso voi lo sapete tanto è inutile che ve lo ripeto e beh si potrà vedere tutta la discussione in confronto perché c'è un tema molto molto interessante un tema di carattere programmatico e quindi uno di quelli più dibattuti insieme al bilancio di tutta la storia del confronto tra maggioranza e opposizione sarà una bella battaglia oggi in consiglio comunale ebbene la giunta espone le sue decisioni per quanto riguarda il programma amministrativo di tutto il quinquennio in più c'è anche il programma triennale delle opere pubbliche insomma quanti soldi la giunta stanzia per realizzare le opere pubbliche e questo articolo di apertura è proprio dedicato alle opere pubbliche di quei quasi 10 milioni e mezzo che sono che sono stati calcolati per il nuovo progetto della biblioteca federiciana sono disponibili solo 2 e mezzo però insomma tutta la cifra è stata inserita nel bilancio delle opere pubbliche quindi anche se al momento non c'è quella dichiarazione di interesse che la giunta che il sindaco aveva detto di voler mettere al più presto ebbene l'opera continua a essere programmata dalla amministrazione comunale ed è l'opera più ponderosa l'opera che costa di più costa di più anche del nuovo stadio che è la giunta del nuovo stadio del nuovo palazzetto dello sport che la giunta si è programmata a realizzare da qui al 2027 programmati interventi per quasi 86,4 milioni di cui 29,3 il prossimo anno circa 39 nel 2026 e 18 l'anno successivo tornando alla federiciana dunque nessuna traccia della manifestazione di interesse e questo lo abbiamo detto sempre nel 2025 però complessivamente Ponte Sasso sarà quello ad assorbire la maggior parte delle risorse economiche il sindaco aveva promesso proprio qualche giorno fa pochissimi giorni fa durante l'assemblea che si è svolta a Ponte Sasso dopo i disastri provocati dall'alluvione un finanziamento di 8 milioni per regolare la così la gestione delle acque il reparto idrico perché veramente dopo la costruzione della terza corsia dell'autostrada il problema idrico di Ponte Sasso è diventato sempre più grave e non è stato ancora risolto 8 milioni saranno destinati dall'amministrazione comunale per cercare di contemperare questo problema e poi ci sono i 4 milioni e i 200 mila euro per il rafforzamento delle scogliere quindi quasi 12 milioni andranno a Ponte Sasso una frazione che è stata un po' dimenticata nel corso degli anni e ora merita tutta l'attenzione possibile vediamo ancora qualche altra spesa importante per il completamento del waterfront di Sassonia sono stati stanziati 1 milione e 900 mila euro mentre restano poco sotto il milione l'impegno di spesa per la riqualificazione del bastione Sangallo non solo poi ci sono altri soldi circa poco meno di un milione di euro 910 mila per il cimitero di Rociano devono essere realizzati nuovi colombari assorbiranno mezzo milione ciascuno il primo stralcio del restyling dei passeggi è la ricostruzione della gradinata del Mancini intorno ai 300 mila euro la videosorveglianza agli accessi della ZTL e poi ci sono ancora la manutenzione straordinaria dei parcheggi quella della sala del Consiglio Comunale 250 mila il fronte dei quartieri a misura dei bambino 200 mila euro per i nuovi bagni pubblici una realizzazione a lungo invocata dagli operatori turistici ma non solo fino adesso questo servizio l'hanno fatto i bar i ristoranti del centro storico e vabbè insomma arrivano i turisti hanno bisogno di un bagno pubblico andavano a prendere un caffè perché insomma non c'era un servizio a disposizione da parte dell'amministrazione comunale dopo tutto questo abbiamo una una dichiarazione politica da parte dell'opposizione la fanno cucchiarini del partito democratico e panaroni del movimento 5 stelle ebbene a loro non è piaciuto l'atteggiamento del sindaco Ser Filippi che in commissione in previsione della seduta odierna del consiglio comunale non si è presentato si doveva parlare della della commissione finanze convocata appunto per analizzare il documento unico il DUP il documento unico di programmazione che sarà appunto approvato nella giornata di oggi il sindaco sembra che se la sia cavata con una telefonata dove ha dato poche risposte insomma questo non è piaciuto ai due consiglieri di opposizione e poi parliamo della mensa di San Paterniano ecco qua l'articolo pubblicato a mezza pagina dal Corriere Adriatico distribuiamo ogni giorno 250 pasti una volta erano 60-70 pensate quanti quanto è aumentato il servizio che viene espletato dalla mensa di San Paterniano gestita dall'associazione Padre Pio il 40% è destinato ai fanesi in difficoltà ormai si pareggia tra fanesi e immigrati perché anche i fanesi hanno bisogno di aiuto la crisi ha colpito duramente anche loro il presidente dell'opera Padre Pio Mauro Guerri chiede sostegno alla città con la fornitura di alimenti e l'articolo prende l'occasione della cena offerta dalla mensa di San Paterniano a tutta la città in occasione della festa di Padre Pio che si è svolta nella chiostro di San Paterniano poi anche in Basilica nei giorni scorsi ovviamente della Basilica di San Paterniano e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani alle 7 grazie per l'ascolto e a risentirci grazie per l'ascolto